22 novembre, si parta personali, qualcosa che sia solo nostro. Sì, guarda, cosa succede? Sì, siamo finalmente arrivati a incontrare dopo 2 giorni. È così sicuro ora. Oh, baby, can't do this to me, baby, just gotta get out, just gotta get right out of here. Oh, baby, can't do this. So, this is a Muslim temple. Yeah, Muslim temple for the second number of the whole world. So, this is a Muslim temple. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vogliono millenni per costruire una fede, ma basta un attimo per distruggerla.